E' buon voloso, minaccia pioggia, traffico infernale, a Saigon non era così, a Saigon. No, 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 si rompe il vetro, sicuro che non esiste, vai fare i video, facciamo dei video, fin dietro, fin dietro ancora, sono i passeri che non ce la fanno, dopo questa roba qua andiamo per fare i video, facciamo un bel copy and call, Super eleganti, ci sei? Mentre i vecchi giocano a Dama ho la fiammata esagerata, caldo e allucinante, basta. Non ce la fanno, no, i belli non ce la fanno.